Praticamente siamo a pochi metri da Fortezza d'Abasso, qui dopo dietro Santa Maria Rovella e stiamo entrando a Pitti. Questo è il pass che abbiamo per entrare e scoprire qui. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info.com Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info.com La collaborazione è bellissima questa azienda che è capace di valorizzare tantissimo il mio lavoro. Guarda la creazione di Adamo con la bomboletta sua. E poi, guarda il suo giro di Jean-Michel Basquiat. Sei alla ricerca delle tue opere. Questa è fatta il monumento ai caduti. Oh, dai, è quello di Como. Aspetta, aspetta, andrò bene. Favoloso, fatti vedere. Vabbè, cazzo. Facci la tua giornata a pitti uovo. Dai, non riesco a parlare davanti a te. Vai, devi superare questa roba. Cosa... È stata una splendida giornata tra fotografie, cinema, divertimento. Ma soprattutto la compagnia tra Mr. Save the World, Michele Bollini e tutti i ragazzi dell'Opificio Zappa è davvero... si sta rivelando una giornata splendida. Questa è la cosa più importante per me. Stare bene con le persone con cui stai bene. Raccontaci la tua giornata a pitti uomo. Vai, Silvia. Allora, la giornata a pitti uomo, bello, bellissima la location, soprattutto non me l'aspettavo così. Molto, molto carino. L'ambientazione, la musica, la gente particolarissima. Un dress code che è eccezionale. Molto, sì. Ci piace. Ma guarda quei dress, è meraviglioso.